L'unione tra il teatro e l'arte, la creatività, in cui la serata della commedia vedrà questa splendida idea di fare un sorteggio, una pesca, come si suol dire, per estrarre il vincitore di questo quadro, che poi è una litografia pastellata a mano, comunque un esemplare unico, destinato a questo fondo ai terremotati del centro Italia. Emanuele Giamurso, come vi è nata questa idea? Perché voi scherzate sul palco e non solo, però quando si parla di solidarietà voi realmente aprite le porte? L'idea è nata da un telefonato con l'amico Alba, con Michele, che ha contattato subito l'artista iudice e quando l'arte e lo spettacolo si mettono insieme possono fare cose molto, molto importanti. Questa per i nostri fratelli e le nostre sorelle del centro Italia, i terremotati, è una cosa che noi volevamo veramente con tutto il cuore e con la fortuna, con l'effemmanuscola, abbiamo la fortuna di avere l'artista iudice che regala questo bellissimo quadro e che verrà messo in sorteggio. Al prezzo di un euro e il biglietto, il valore del quadro è all'incirca di circa 1000-1200 euro. Gela, non solo gela, tutta Italia ho sentito che si sta stringendo in effetti attorno a questi fratelli sfortunati che hanno avuto questa disgrazia in questi giorni. e noi qua del gruppo Antidoto cerchiamo di essere solidali con questa popolazione sfortunata, così come lo sono stati tutti i gelesi e tutta la popolazione italiana. Speriamo di vendere 2000 biglietti e il ricavato sarà tutto devoluto alla città di Amatricia. E ricordiamo che il prezzo è di 5 euro a coppia. Sì, il prezzo del biglietto è sempre 5 euro a coppia, ci sarà solo l'aggiunta di un euro per ogni biglietto acquistato del sorteggio. Vabbè, non è obbligatorio, chi vuole comprarlo, ad esempio io ne ho già comprati 10. Speriamo che ho vingiù a questo punto, scusate. Grazie, arrivederci e grazie.